Buongiorno a tutti amici sportivi, siamo a Brinzio, in occasione della Madonnina del Brinzio, con Ivan Colombo. Ciao Ivan. Ciao. Allora, oggi com'è andata Ivan? Bene, ho vinto il provinciale degli esordenti primo anno di Varese. Io so che tu sei anche molto bravo nel ciclocross. Preferisci il ciclocross o le gare in strada? Per adesso mi piace di più il ciclocross, però poi vedrò anche dove andrò meglio. Allora, tu per che società gareggi? Per il team ciclocross cadrezzate. Quindi una squadra prettamente orientata verso il ciclocross? Sì, perché sono venuto qui perché non ho trovato altre squadre che mi permettevano di fare sia strada che ciclocross. Senti, abbiamo assistito a una bella stagione invernale con questi due ragazzi giovani, poco più grandi di te, Van Aert e Van Der Poel. Chi è che preferisci ai due? Van Der Poel, però comunque mi piace anche Van Aert. Mi piace vederlo andare in bici. Dei due chi è più forte? Secondo me è Van Der Poel, perché comunque negli ultimi anni ha vinto di più. Studi? Sì, studio. E cosa fai? Seconda media. Sei la seconda media, quindi è molto piccolino Ivan. Da grande? Eh, da grande il mio sogno sarebbe diventare ciclista. Poi devo pensare bene a una seconda possibilità, perché comunque non sempre si realizzano i propri sogni. Però, mettiamolo così, il sogno lo puoi realizzare, ti do una scelta. Preferisci fare il crossista o lo stradista? Crossista. Bellissima questa cosa, vuol dire che ci credi, che è una passione enorme, in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie.